Sono molto contento di avere questo premio, anche se mi sento un po' scomodo perché sapendo tutto il lavoro che è stato fatto da tutti quelli che hanno fatto i film, i documentari, i short che sono qua oggi, anche quelli che sono molto belli, devo dire che è strano di arrivare e di avere un premio, però è molto bello lo stesso, è un onore, mi piace questo festival, mi piacciono queste occasioni, e anche mi piace l'idea che ci sono tante persone che sono fuori, che stanno lì bevendo dei drink e non hanno visto neanche un film, però sono lì e c'è un motivo, c'è questo, c'è Mix, c'è questo festival di film LGBTQ, e cosa? Che deve continuare a vivere! Ah sì! E questo è molto bello, dunque grazie mille, all'anno prossimo, io voglio portare questo come una collega.